Ciao a tutti, io sono Fricco e benvenuti sul mio canale per questo nuovo episodio su YakuzaZero. Allora, nello scorso episodio mi avevo scoperto... Come fare il producer? Aspetta, aspetta, non sto parlando! Allora, abbiamo scoperto come fare il producer e poi abbiamo scoperto il touchpad in real estate, dove si trova e che... Eh, vabbè. E che cosa stanno facendo, cioè nel senso cosa vogliono fare. Ah, figo! Non sarei solamente per spostarmi sicuramente. Ah, ahia. Ok, adesso stavamo andando qui, al Public Park 3, che stavamo seguendo un senzatetto che lavora per il Fujibana. Fujibana? Non mi ricordo. Sì, ti aiuto. Anche perché mi danno degli oggetti. Mi ha ucciso da dove non colpo? Vabbè. Guarda, questo è per te. Dalla 137.000, ok. Cosa ci regali? Tautness Z. Ma... Ah, no. Prenderà per la vita e basta, ok. Allora, prendiamo questo veicolo. Ok. Va bene. Abuse me. Ah, ciao. Oh, Ria! Oh, Ria! Choryuken scusatemi l'otagina non ce lo fa fare ok vabbè loro sono contenti perché li pagano però non sanno che casino stanno facendo in città si sono comprati la legna per accendersi il fuoco c'è una carta minotono ah così è sempre becchiasse si pagano il giro solo a loro 3,4,5 tutti ok una birra ok tempo di fare delle foto sweet potato songe ok si 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 tu cosa vuoi invece whisky ah vuole uno scotch tu invece sacche tu invece cosa vuoi champa eeeh raffinato il nostro amico donkey show ah cavolo mi stava dicendo dove trovare le cose io non ho ascoltato a la suite una birra una birra però non volevano il whisky volevano lo scotch ok quindi così per adesso ok va bene facciamocela mica se ah in tutto questo abbiamo fatto 5 sottostorie allora poi donkey yacht ok eeeh Siamo arrivati? Si Entra Quindi Mi serve Ah Carlsberg Davvero L'ho pagato Champagne Scusami Va bene E prendiamo anche un'altra birra Che non so se Aspetta però Qua scotch non ne hanno Mi manca il sacchè E lo scotch No 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 Sa che è lo scotch Vediamo No Perché è rientrato Esci Scusami Un'altra birra Un'altra birra Scusami Scusami Così Sake e scotch quindi. Ah questa è roba di gioielli. Ah qua posso vendere. Allora uno e due. Ah nice. E tre. Apri il resto mi sarebbe tutto. Cosa potrei comprare? Ok ci sono dei vestiti pesca che succede Equipment. Ah. Ok. Ok. E' questo? Assolutamente niente. Ok. Sake. E poi cosa mi serviva ancora? Sake? Lo scotch. Vediamo. Dragstore. Store branch. Andiamola. Questa. Questa. E'? E' molto di quello? Scrempi? scotch whisky eccolo qua qui ne manca solo il sake si decisamente quando lo troverò no perché entriste volevo correre via allora drugstore sicuramente lo ne troviamo mi manca il sake manca il sake manca il sake sono finiti i negozi però dobbiamo vedere se lo trovo là sopra andranno a far girare tutta la città per prendere il sake per prendere tutte le cose dai fermo scusatemi guardate lasciarlo in pace grazie easy money ok mi avete ripagato dei soldi che sto spendendo per senza tetto ruby plate very good vediamo cosa posso comprare lo shrine come si entra non voglio neanche sapere chi tu sia caro fast ho 14 gp va bene allora non c'è un fast travel su sinistra su adesso non ho tempo ragazzi dai non c'è un fast travel non c'è un stand non c'è un stand Allora, vediamo se riusciamo a trovare il sacchè. Eccolo qua. Ok, abbiamo tutto. Allora, vediamo se. Ah, posso fare anche le finisher con gli oggetti? Ok, ciao ciao. No, fermo. Allora... Tira. Ecco la sweet potato. Tu vuoi lo scotch? Poi, sa che... E champagne. Adesso parlate, ragazzi. Dai, champagne. Ok. 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 Ah, ok Beh, l'importante è che vi paghino, certo Dai, dai, sì, 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 sì Ah Champion District Ok Ah, quindi ci sarà una guerra tra... tra bande Champion District Ah, ce l'ho mostra Bacco Cosa ti serve Bacco? Bacco Ok Ok Beh, sì, proteggiamolo, se ci insegna nuove mosse Vero, non stai... è un assassino, altro che è Dici Hai armi? La pistola Beh, questa è la perfetta... il perfetto stage per usare questa... questo stile di combattimento Ah Addio Io stavo... cominciando a prendere un po' di domesticazione con l'ambiente... è morto Ok Quindi dovremmo proteggerlo parecchio Sì, show me your moves Sì Sì, sarà pronto Ah Un altro Professional Killer L'assassino Inassassinabile Ok Ma stai scherzando Scusami mi sono fatto prendere dalla mano Mi fa male il collo solo a vederlo Dai perché devi farmi usare la mossa Ah lo devo sconfiggere con questo stile Ah it's men Ah io Altro ok Ah si belliscio Ah yeah Es tu Star Oh yes Fa male comunque Non fa male però spezza la guardia Oh Un po' te lo sei meritato eh Sumo Dai silenzio Ma niente male Ok insieme qualcos'altro Sì Keep rolling Ok Ok un altro hitman Eh Eh È tempo di partire uno Sempre a power? Sembra di sì Allora Contra attacco Oh 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 Aio, ehi, forse, oh, guarda che faccio vedere una cosa Scusami, aio, no Ah, lo sa fare anche lui il contratto, bello tosto, eh Non era messo così, però va bene lo stesso Nooo Questo contratto mi servirà parecchio Aio Ok Abbiamo imparato tutte le mosse che dovevo imparare Ok Mi sa che per adesso abbiamo imparato tutte le tecniche che ci dovevo insegnare Ci insegna qualcos'altro? Ok Ok Allora Fugliamoci la Veta Ok Stiamo per andare a fare una missione principale Ma queste non si parano neanche, non le posso neanche provare Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Crazy strong Allora No Mi conviene andare qua Io direi di fare anche un salvataggino Allora Eccoci qua Così? Solo perché ti ho portato? Ma sei cattivo eh Ma non si parano questi? Voglio provare le mie tecniche nuove Ok Oh vedi fermi Sembra un trappolozzo eh non per dire Eh infatti Ma io non sono io a cosa Sembra che non interessi Brawling Anasano no Yakuza Ah Ah Una mossa passata Ok Bere mangio tutto quello che ha detto su quello stile di comandamento Ok Ok Ah Ciao Sì Sì non lo sono infatti E ho ricevuto una proposta dal tuo capo E volevo sapere se era Sì Se fosse una fregatoria oppure no Anasano Anasano Sì Anasano 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 Anasero Anasano 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 Se volentieri a parlare di questo, se tu vede a venire a venire al centro della qualsiasi. Se ti senti a venire proprio. Ok, capito. Dai, dai qui. Ci sono altri qui, che fanno la città del Yakuza. E' vero? Come sempre sono andati dal Yakuza per la Champions League. Ma, non è. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok cerchiamo un salvataggio E chiudiamo l'episodio Va bene ragazzi io direi che per questo episodio è tutto Noi ci vediamo al prossimo sempre qua sul mio canale Ciao a tutti Se vi è piaciuto il video iscrivetevi e lasciate mi piace ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti